dove sta Michele? Michele sta un po' ubriaco un po' ubriaco? un pochito un piccolito un piccolino non posso andare a dormire? no? adesso non posso andare a dormire è come un video in Play Rich Project lo è questo questo campo è un pochetto non è ancora un pochetto ma lo calcio è un pochetto è un pochetto sono no Get No Sleeve! Da un'erfischetta! Get No Sleeve! Perché se mi fu ieri non hai fatto se niente I need to sling See you tomorrow The videotape is going to finish No You don't have to go in a minute You don't have to go in a minute What's the vlog? What's the vlog? Where are we? Where are we? What's the vlog? This is the vlog Go, go, go Go, go, go Go, go, go Go from the Spanish apartment Aerodynamic You can speak Spanish here That's a great place Go, go, go Go, go, go Go, go 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 Sì, 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 sì. 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 Il cimitero di San Davids di notte.